Attenzione, Rillo se ne prova a andare, entra Naga, la mette in mezzo, la direzione è gol, è gol, Dubicas al minuto 95 e abbiamo vincito questa partita in maniera clamorosa, il cross di Rillo è spettacolare, Dubicas arriva in scivolata stavamo dicendo prendiamo tanti gol agli ultimi minuti e stavolta l'abbiamo fatto 30 secondi dopo bellissima azione con un bel appoggio di Lamesta con il cross di Rillo, eccellente, Dubicas in scivolata mette il pallone alle spalle, mamma mia che emozione, il lituano il 95esimo riporta in vantaggio Piacenza in una gara che è fondamentale per lo sviluppo dei playoff, grande gol di Dubicas ma il cross di Rillo è di altra categoria con qualità, io pensavo potesse addirittura entrare a illuminare, invece ha preso la mira, ha controllato ha messo un pallone di quelli che obiettivamente non si possono sbagliare e Dubicas in scivolata ha riportato in vantaggio il Piacenza, quando sono 95 e 50, 2 a 1 il Grilli ha pulmoni ha riportato in scivolata ha pulmoni ma